I sedicesimi di Coppa Italia lasciano ben sperare. Il Licata 1931 passa pienamente il turno con un secco 1-2 e si qualifica per il terzo turno di Coppa Italia. La squadra licatese partiva con il vantaggio di aver vinto anche la sfida d'andata quando allo stadio di Noliotta si impose invece con un 2-1. Nuvola nera invece per la Gattopardo che ha subito una sconfitta in casa dato che la partita si è disputata presso il comunale di Palma di Montechiaro. Ma i 90 minuti in ogni modo sono stati giocati a pieno ritmo e con entusiasmo da entrambe le formazioni anche se alla fine a primeggiare è stato il Licata 1931 del tecnico Tommaso Napoli che accede meritatamente al terzo turno di Coppa. Ecco i risultati di Coppa Italia. Strasatti Dattilo 1-3 passa il Dattilo. Villabate Alcamo 0-1 passa l'Alcamo. Terrasini Riviera 0-0 passa il Terrasini. Ribera Valderice 1-2 passa il Valderice. Gattopardo Licata 1931 1-2 passa il Licata. Casteldaccia 2 torri 0-1 passa il 2 torri. Queste le squadre che passano il turno successivo. Alcamo Vittoria 2 torri Licata Rea Lavola Taormina 3 Castagne e Valderice. Grazie. 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 Grazie.